Che buongiorno americano Basato Mike buongiorno Mike buongiorno basatissimo Are you a boy or a girl? Minchia basa Se facevano un'uscita del genere di oggi C'era un cecchino Tra il pubblico e gli avrebbe sparato in testa Programma per i giovani Are you a boy or a girl? Professor Oak Esatto Gli ha fatto una professor Oakata